Buonasera a tutti, grazie per essere qui per questo ultimo appuntamento del 2023 del ciclo Leggenda, questo ciclo che è cominciato con Leocardi e si chiude adesso con Eugenio Montale Ora, vi epilodando un attimo il perché di leggenda Voi sapete che la parola deriva dal latino, che significa dire o anche raccogliere Però c'è anche un'accezione greca, che è un insieme di cose Non soltanto la parola ma anche causa, ragione e così via Quindi noi possiamo intendere il termine di leggere come una raccolta di ciò che serve da custodire anche per il futuro, per il passato C'è un'asservazione che faceva Faber, che mi ha incuriosito, ed è questa Diceva Faber, leggete non per divertirvi, leggete non per istruirvi, ma leggete per vivere Quindi la lettura diventa, come ha detto un collega inglese, diventa un atto creativo Ovviamente però ci sono modi e modi di leggere, c'è la lettura lenta, la lettura veloce E dipende anche dai testi In un'intervista di diversi decenni fa, proprio Montale si occupava di questo Leggere, come si legge E noi dicevamo, si può leggere in maniera veloce o in maniera lenta Però ecco, la lettura lenta è talvolta obbligatoria Non si può leggere velocemente, che so crust Mentre si può leggere velocemente un libro già Anzi, diceva Montale, in maniera un po' provocatoria Con il libro già si dovrebbe cominciare dalla fine Perché quello che interessa proprio la fine, tutto quello che viene prima È come dire, un qualche cosa di preparatorio all'evento finale Ma a parte questo Leggere ci aiuta anche da un altro punto di vista Che può essere interessante per tutti noi Uno studio che ha fatto all'università di Yale Ha dimostrato, e non solo all'università, ma anche altre università Che chi legge ha un'aspettativa di vita mediamente più lunga di due anni rispetto all'ora Allora conviene leggere, insomma, per il motivo un interesse così via E quindi, poi c'è come riscontro il fatto che molti giovani Troppo molti giovani, che sono alle brise con i telefonini Con tutte queste aggigie della tecnologia moderna Poi spesso non sanno scrivere, no? Anche di recente Addirittura c'è un test che ha fatto all'università di Polonia Su duemila studenti Che su cinquecento parole mediamente c'erano almeno dieci errori Dieci errori di grammatica, di sintassi, di ortografia e così Quindi è un po' difficile Ma già anni fa Che ho fatto uno studio, quindi negli Stati Uniti Gli studenti che uscirono dalle scuole superiori non sapevano scrivere in corsico Usavano lo stampatello soltanto La difficoltà dell'università Ora, noi leggiamo qui Stasera Alcune cose di Eugenia Montale E Eugenia Montale ci diventa anche a qualche cosa che noi abbiamo già studiato Come dire, abbiamo già affrontato Chi ha partecipato di voi al primo incontro su Leopardi Ci sono molti richiami all'opera Leopardiana Io ho intitolato questa puntata Montale, avete visto, la ricerca della felicità Che è un tema carissimo a Leopardi Leopardi, in genere, gli studiosi Chiudono questo tema Dicendo che Leopardi è la teoria del piacere Ma in realtà è la ricerca della felicità Noi qua, proprio con gli amici che ho con me al tavolo Abbiamo letto, vi ricorderete, l'operetta Insomma, il dialogo della natura e l'insidantese E l'insidantese che cosa chiede alla natura? Ricordate questo personaggio di questa teoria lontana? Dice, ma perché io devo soffrire? Ma perché? Non sono felice, no? Il senso è questo, no? E la natura che risponde Dice, ma il mio compito non è per pensare alla felicità di Leopardi Io ho un altro compito Il mio compito è quello di distruggere e ricostruire Distruggere e ricostruire E nel destino di Leopardi non mi interessa nulla Questo è la risposta che gli dà E quindi c'è questo desiderio Di ottenere la felicità che è un desiderio comune Ci appartiene a tutti, ciascuno di noi cerca di poter avere un po' di felicità Sono stati fatti tanti film, no? Anche su questo tema Montale, ecco, imposta questo discorso Lui che, diciamo, viene etichettato dalla critica come il Il poeta del male del vivere, no? Anche io scrissi tempo fa, anni fa, un saggio Però Montale è il male di vino Un testo che ormai è esaurito da un po' di tempo Ma Montale, ecco, ci racconta proprio questo In una poesia che ha proprio il titolo Anzi, chi ha l'occasione poi di leggere Montale Vedete che la maggior parte delle poesie di Montale Soprattutto gli ossi di sé, perché il suo popolo Non ha un titolo, no? Hanno un titolo solo delle sezioni Noi interpretiamo la poesia dal primo verso, in genere, no? Così E il primo verso di questo osso, diciamo Questo osso di sé, per sentire, ecco, felicità raggiunto Che cosa era? Come si può fare? Allora, Montale, felicità raggiunta Comincia così Si cammina per te sul fil di lama Cioè, si cammina sul filo del rasolo Quanto è difficile Poi dice Agli occhi sei il varallume che vacilla Al piede teso gli acci e qui si incrina Cioè, gli occhi è come un vento Che è come una lucina Che è un vento anche occasionale può distruggere E poi camminare sul ghiaccio che si incrina Eppure lascia soli proprio qualora che la desiderano di più Infatti dice E dunque non ti tocca chi più t'amore Sennò non ha il diritto Eppure la precarietà poi ritorna nelle strofe successive Se giungi sulle anime in vase di tristezza E le rischiate Le anime in vase di tristezza Ne sono piene di dolore, di amarezza E le rischiate Che la felicità dà a queste rischiate Tutto invece la precarietà dice Il tuo mattino è dolce e turbatore Come i niti delle cimase È come vivere in un nido Sopra un palazzo Sopra un edificio Come i niti delle cimase Ma poi la felicità non è tanto nella quantità Noi siamo presi in continuazione dai dati Chi è il più rinco Chi ha più successo Ma la felicità consiste anche in cose minime In quello che in quel momento Il possessore per così dire giudica la felicità È il distico finale che è bellissimo Tra l'altro ce lo dice Ma nulla fa quel pianto del bambino A cui fugge il pallone tra le case La felicità è il palloncino Che il bambino tiene in mano Che un attimo di vento può far volare via Il bambino rimane di buono Stordito, avvirito Perché nulla fa quel pianto Il palloncino che è sfiorito tra le case Io ho spezzato la poesia Dovevo indicare alcune cose per commentare Adesso però vorrei che la leggessimo tutti Non vi ringrazio? C'è Bruno C'è Bruno Minotti Poi stasera avremo come special guest Come dicono gli americani, gli ingressi Come ospiti Così come un altro poeta Che ci suggerisce, che ci aiuta La prima puntata Ricordatevi che è stato con noi Eugenio Lugrezia che ci ha proposto Anche addirittura una filettura Una riscrittura Del poemetto di Leopardi Dei modi credenti Stasera c'è con me Fabio De Notte E poi dopo Ecco Fabio De Notte Fabio De Notte Chiameremo anche per noi Anche Fabio tra l'altro è poeta Poeta di lungo corso Diciamo un paio di cose I suoi recenti Il capitale di vedere L'albergo dei morti La Corriera Azzurra Poi è il curatore Del pensiero poetante Un po' come io curo Libri in poesia Quindi ci occupiamo di più Ed è anche critico Tra l'altro Una curiosità Che vorrei dire Che la maggior parte O buona parte Dei poeti Sono anche critici Cosa che non avviene Per i narratori I narratori Il poeta invece Perché semmai Spesso il poeta Scrive anche per il piano Ma soprattutto Sono i critici Era critico montale Adesso lo vedremo Perché fu un critico Al Corriere Per tanti anni E tra i critici I più importanti Del novecento Ovviamente ricordiamo T.S.E. Il più grande poeta Del novecento E anche I più grandi critici Quindi c'è questa Questa peculiarità Che unisce la poesia E la critica Adesso allora Adriano Se ne dice Questa unicità Ragionta Felicità raggiunta Si cammina per te Sul fil di lama Agli occhi Sei barlume Che vacilla Al piede Teso ghiaccio Che si incrina E dunque Non ti tocchi Chi più t'ama Si giungi Sulle anime In base Di tristezza E le schiavi Il tuo mattino È dolce E turbatore Come i nidi Delle cimase Ma Sulla paga Il pianto Del bambino A cui fugge C'è il pallone Tra le case Tra le case Ma il che serve Allora Torniamo Il tema Adesso appunto Della felicità Ma la felicità Bisogna Cercare Bisogna Trovarla Di dentro L'esperienza E questa esperienza Questo racconto Dell'esperienza Torna in un'altra poesia Sempre degli ossi Anzi vi dico questo Il montale In realtà Ha scritto poco Sotto sommato Il montale Ha scritto tre libri Gli ossi di seppi Le occasioni La bufereale Poi c'è anche Un'altra pubblicazione Di Massaro Le prose di farfalla Di lì Però in realtà Il montale Io dico Ha scritto Un libro e mezzo Cioè gli ossi E' parte Delle occasioni Non tutti No Diciamo anche Essere diciamo Come dire La critica Diciamo Cercare di individuare Diciamo Laddove c'è veramente La poesia Io questo L'ho appreso Da un mio maestro Come sto parlando Di Sabato del Battaglio Con il più grande critico Non sapete Non so E quando Battaglio Per esempio Leggeva i testi Anche montati Diciamo A un certo punto Diceva Basta Qui la poesia è finita Quello che viene dopo Non serve Perché Perché Quello che dovevo dire L'ha già detto Ed è inutile Ripetere Questa ripetizione Continua Invece E' più Come dire Fa parte più Di chi scrive Di narrativa Di saggistica Di altre cose La poesia deve essere Essenziale Spesso Noi abbiamo imparato Anche e soprattutto Dalle Dalle formule L'ermetismo Del surrealismo Per quanto io non amo Queste formule La poesia è poesia Le formule Questo Il surrealismo Io dico Sono pericritici Scarsi Quelli che non amo Hanno bisogno Del compartimento Fragno In realtà La poesia è così Cioè Montales Come vediamo Sta vicino A Leopardi Qua la sua volta Sta vicino A Torquato Tassi Qua la sua volta Sta vicino A Petratti La storia della letteratura Non è una storia verticale Come ci impongono Cioè hanno un posto a scuola Ma è una storia orizzontale Cioè una storia di sensibilità E la sensibilità è la stessa Anche attraverso i seri Non necessariamente Deve cambiare Perché io Una serie La vado a letto E sono neoclasticista E poi una mattina Mi sveglio romantico E questo Com'è possibile Queste sono le sciocchezze Che purtroppo La sua l'ha veicolato Per tanto tempo Allora Per tornare Iniziamo la poesia Da questo Della filmina Montale Ci racconta Una storia In questa poesia Di Geremo Che si intitola Falsetto Falsetto Perché ha Già Un po' Una mezzaluce Ma soprattutto C'è un richiamo personale Perché Montale Da giovane Aveva studiato Da baritono E non a caso Poi Negli anni Negli anni Successivi Quando lì fu A Milano Al Corriere della Sicilia Lui lasciò Genova Alla gabinetto Vissi a Firenze Fu cacciato Dal gabinetto Perché non volle Firmare La testa La fascista E poi A prolungo Il 1948 Con la guerra Al Corriere E rimase al Corriere Falsetto Non è un punto Queste risorse Ma Soprattutto Per chi studia Montale Questa poesia È la poesia Di Esterina Perché la protagonista Si chiama Esterina Ed è Tutta Diciamo Bilanciata Sulla Giovinezza E la perdita Della giovenezza O il rischio Che si chiama Esterina E l'importanza Della giovenezza Qua c'è già subito Un richiamo Come si pensa Alla parte Ma già la poesia La prima dice Esterina I vent'anni Di minaccia Grigiolosi A nuve Che a poco a poco In seti Chiude Questo è L'incipio I vent'anni Sono una cosa bellissima Ma sono anche Una minaccia Perché sta finendo Una stagione Nella vita Bisogna confrontarsi Con altre esperienze E allora qui Il richiamo Allo parliamo Quasi d'oprico A chi fa pensare Alla Silvia O alla Nerina Delle ricordanze Ricordate L'incipio Di Silvia Silvia Dimenti ancora Quello stato Della tua vita Mortale Quanto Verità Splendina Gli occhi Tui Evidenti E fuggitivi E tu Liete A pensare E limitarti Gio Tu Sairi Silvia Ha questa Neopardo usa Quattro aggettivi Che sono Di una perfezione Straordinaria Noi non potremmo Sostituirla Con nessun vocabolario Dei sinonimi Come è Silvia Gli occhi di Silvia Come sono Sono ridenti E fuggitivi Sono ridenti E fuggitivi Però c'è un'ombra Sono fuggitivi E l'atteggiamento Di Silvia Com'è E lieta Ma pensoso Questo è E' come esterina I vent'anni di minaccia Grigiorosi A lunga Che a poco a poco Di Silvia Ciò intendi E non va bene La favola di esterina Si svolge In uno stabilimento Paniare Cioè Montale Vede questa ragazza Che sta Per fare i panni Come avviene D'estate In uno stabilimento E finirà poi Per fare il tuffo Nel mare Allora Lui la descrive E quindi La incoraggia Noi speriamo Che sia un Un concerto Di sommagliega Che andrà tutto bene E poi Vede la ragazza Dice Ti stendi Che membro al sole Ci ricordi La lucetta Sul masso gruglio Te Preoccupa Insidia Gioviezza Quello è il lacciolo Del fanciuto C'è il rischio Di quello di questo Ma tuttavia Esterina Non può fare a meno Di tentare Di fare Quello che Abbiamo fatto Tutti E lo faranno Tutti C'è il tuffo Nella vita E Esterina Allora Avanza In questo Sardinimento Sala sul trampolino E prima di Duffarsi Ha un attimo Di incidiazione Fa di certo Esiti Assommo Del treno Assi No? Un attimo Di incidiazione Poi ridi Cioè È come Spiccata Da un volo T'abatti Fra le braccia Del tuo divino amico Che t'afferra Divino amico Che t'afferra in mano In tutta la poesia Montaliana Il mare È l'esperienza Cioè Il mare È 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 La vita No? T'abatti Fra Della Che t'afferra A questo punto La poesia è Sì Per finire Però invece C'è un distico Che secondo me È quello che Montala Ha concepito Per prima Cioè È dal distico Che poi È nata A mio giudizio Poi la L'amore Sì Il distico finale È questo Cioè Ti guardiamo Noi Della razza Di chi rimane A terra Cioè Noi Questo tuffo Forse Non l'abbiamo Potuto fare Non l'abbiamo Saputo fare O l'abbiamo Già fatto Ed è rimasto Diciamo Come dire Senza esito Ti guardiamo Noi Della razza Di chi rimane A terra Ho la sensazione Che Montaliana Che abbia concepito Questo E su questo Ha costruito La poesia Falsette Che è una delle poesie Più belle Anche di Montal Non so Quale di noi Fattore Adesso ci leggo Falsette Che steve Violento Poi dal fiotto Di cene Uscirai a gusto Più che mai Protesa Un'avventura Più lontana L'intento Viso Che assembra L'arcera Diana Salvano Gli eventi Autunni T'avviluppano Andate Primavera Ecco Per ti Rintocca Un presagio Negli elisi E sfere Un suono Non ti renda Quali Ingrinata Brocca Percossa Io prego Sia per te Concerto Ineffabile Di Somaliere La dubbia Di mare Non ti impavora Leggiadra Ti stendi Sullo scogno Un cento Di sale E al sole Bruci Le membre Ricordi La lucetta La ferma Sul masso Brugno Te Insiglia Giovinezza Quella Il lacciolo D'erba Del fanciolo L'acqua E' la forza Che ti tempra Nell'acqua Ti ritrovi E ti rinnovi Noi ti pensiamo Come un'alga Un ciotolo Come un'equore A creatura Che la sassegline Non intacca Ma torna Più pura Hai ben ragione Tu Non turbare Di un bì E il sorridente Presente La tua Gaghezza Impegna Già Il futuro Ed un Crollare Di spalle Di rocca Ai fortilizi Del tuo Domano Oscuro T'anzi E t'avanzi Sul ponticello Esigo Sopra il gordo Che stride Il tuo profilo Si incide Contro Uno sfondo Di perla Esiti Assommo Del trevo Vasse Poi Ridi E come Spiccata Da un vento T'abbatti Tra le braccia Del tuo divino Amico Che t'afferra Ti guardiamo noi Della razza Di chi Rimane a terra Allora Mi prendendo Questo Questo tema Della Circa Della felicità Per così dire C'è un testo Di Montale Molto famoso D'Ora Un osso Un osso di sé Dove c'è L'incontro Con la natura L'osservazione Della natura La bellezza Della natura E il destino Di invece Amaro Dell'individuo Il testo Si intitola Sempre il primo verso Che partiene Meriggiare Padre Di assorno Ed è un'osservazione Della natura Vissuta Quasi In solitudine Questo è anche Un argomento Molto importante Di Montale Perché Montale Dirai Con L'urgenza Di questi tempi Della comunicazione Già all'epoca Dice Non riusciamo più A stare subito A riflettere È quello che avviene Anche oggi Perché Questi mezzi Ci condizionano In maniera Straordinaria Nel discorso Che lui aveva preparato Per Quando dicevete Il premio Nobel Volevo intitolarlo Riuscirà la poesia A sopravvivere Ai mezzi Di comunicazione Di nasi Poi lo compriva Leggermente Ma il tema Lo stesso C'era Il quale futuro Per la poesia Questo era poi Il tema Che discorso Al momento Del novello Non riusciamo A stare soli Non riusciamo A stare con noi Non riusciamo Anche perché Dove lo fronato C'era La difficoltà Di comunicare E in questo Meriggiare Bellissimo Che lui Porta avanti Il discorso Della natura Però poi Si scontra Alla fine Con il solido Destino Amaro In fondo È come Dover scavare Una muraglia Il famoso Muro d'oltre Che ha in cima Coccia Questi Bottini Togna il discorso Della difficoltà Il fil di rana Così La vogliamo Sentire un'altra La nostra Diriggiare pallido assorto presso rovente muro d'orto, ascoltare tra i bruni e gli sterti schiocchi di merbi, frusci di serbi. Nelle crepe del suono o sulla veccia spiare le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra i frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremoli, scricchi di cicale dai calmi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare un'auraglia che è in cima con cianuzzi di bottiglia. Bene. Allora questo tema è la poesia. Montarlo lo sviluppo, lo chiamo, in vari modi. Proprio io voglio raccontare un piccolo fuori programma, diciamo così, di come Montarlo era un personaggio schifo, un personaggio non amato, diciamo. Le cose di cui oggi siamo abituati, le ospitate televisive, le interviste e così via. C'è un episodio che racconta, cioè raccontava Indro Montanelli, cioè Montanelli, lui eravamo al Corriere, un giorno eravamo, cosa che facevamo spesso durante l'ora di spatola al giornale, a due e mezzo, una cosa così, andavamo giù al ristorante, cioè al ristorante andavamo a fare colazione. Un giorno c'era, non c'era io, c'era Montale, c'era Giulio Nascibele, che era il capo della cultura, un altro collega, era un quadro. Cioè a un certo punto si avvicina a noi un personaggio, con un foglio di carta, e si rivolge proprio verso Montale, non Montale, con un foglio di carta. Montale è un po' lontano, questo dì si insiste, e poi gli dice, ma è una poesia, era un poeta. Montale si gira, lo guardò freddo e gli dice, noi odiamo la poesia. La cosa non è finita lì, perché questo tizio, che aveva spesso ogni speranza che aveva la mancia, oggi si fanno con i fiori, ogni ristorante, mentre si allontanava, disse tra sessi, ci sarebbe pazienza. Non tutti possono capire la poesia. Non l'aveva capito, non l'aveva conosciuto, non l'aveva lasciata. E' per consolarsi, e questo dice, noi rimaniamo freddi, era una cosa che ci raccontava, ci rimaniamo gelati. E' anche complicato, se ne parlo, questo episodio Montale. Però il fatto che l'abbia rifiutato, vuol dire che lui volesse ascoltarla, lui voleva creare. Può essere che sia vero, che odiassi la poesia. Può essere. Non ce l'ho diciamo, questo qua non è questo. Allora, intanto avanti invece qualcosa è nostro, ecco. Adesso, la difficoltà della comunicazione, questo episodio ci introduce, è un testo, si intitola Due nel Geruscolo. Ed è un testo però che Montale inserì nella terza pubblicazione sua, la Puffer e l'altro. Però è un testo che lui aveva scritto negli anni venti. Quindi stranamente non lo inserì nei Giosi di Sette, ma in una pubblicazione a parte. Ed è però molto significativo per noi perché ci introduce al discorso della difficoltà della comunicazione e di come ci resta ciascuno isolato nelle proprie busce, nella propria vita, nelle proprie esperienze. E la storia di questi due personaggi, che si incontrano e quasi non si riconoscono, ma soprattutto non riescono a comunicare. E' il dramma della parola questo, che è una cosa di grande attualità. Perché noi stessi, questa volta l'aveva detto anche Livio Garzani, noi non riusciamo a parlare con i nostri figli, che parlano un'altra lingua. e così ci sono tante lingue, tante difficoltà quindi di toccare la rida degli altri. La parola che è il tramite, come si fa se non si ha la possibilità di trovare un codice comune in questo senso. E alla fine la poesia, anche questa è molto bella, è scritta molto bene, si chiude su questa incommunicabilità, che fu un tema, come voi sapete, caro a tanti cineasti, Andonioni, Ghiatti, ma con difficoltà di comunicare. E in un certo punto non serve per la parola. Invece la poesia, alla fine c'è le parole, tra noi leggere caro, che poi fu il titolo di un romanzo di Natalia Gini. La parola tra noi leggere caro. Dice, non so se ti conosco, so che mai diviso fu da te, come accade in questo tanto ritorni. Non si conosce più. Ci pochi istanti hanno bruciato tutto di noi. Ci sono due maschere che si incidono sforzate di un sorriso. Il tema della maschera, noi abbiamo parlato di Pilantello, abbiamo parlato di Collegatello, che è il tema, che è uno dei temi di grande attualità, cioè che ci si nasconde e che non si riesce a comunicare. Le parole caro, non servono nulla. Vogliamo leggerlo? Questa è la parola. Allora. Fluisce tra te e me sul belvedere un chiarore subacqueo che deforma col profilo dei colli anche il tuo viso. Sai un fondo stuggevole, reciso da te ogni gesto tuo. Entra senza orma e sparisce nel mezzo che mi colma ogni solco e si chiude sul tuo passo. Con me, tu qui, dentro quest'aria scesa a sigillare il tortore dei massi. Ed io, riverso nel potere che grava attorno, cedo al sortileggio di non riconoscere di me più nulla. Fuori di me. Se io levo appena il braccio, mi si fa un diverso lato. Si spezza su un cristallo, ignota e impallidita a sua memoria. E il gesto, già più, non mi appartiene. Se parlo, ascolto quella voce addonica. Scendere alla sua gamma più remota o sventa nell'aria che non la sostiene. tale nel punto che resiste all'ultima consunzione del giorno. Dura lo smarrimento. Poi, un soffio risolleva le valli in un frenetico modo. E deriva dalle tronde un tinnulo suono che si disperde tra rapide fumate. E i primi lumi gli segnano gli scali. Le parole tra noi leggere cadono. Ti guardo in un molle di verde. Non so se ti conosco. So che mai diviso fuori da te. Come accade in questo tardo ricordo. Pochi istanti hanno bruciato tutto di noi. Forché due volti. Due maschere che si incendono. Sforzate. Di un sorriso. Visto la difficoltà di comunicare, c'è anche la necessità di mantenere viva la memoria. E questo tema della memoria torna in diverse poesie nella seconda pubblicazione di Montano. sono le occasioni. Torna che è una poesia molto famosa. Dora Marcus, questo personale. Ne ho scelto un'altra. notte famosa. Forse un po' meno. E' molto significativa per alcuni avversi. Ma poi si si titola. Questo c'è il titolo. La casa dei doldanieri. Che è il luogo che Montano ha percorso. Parte anche prima della sua vita. Con un'altra persona. E adesso, diciamo, tutto è sempre dimenticato. Soprattutto dal suo interlocutore, interlocutrice. Poi si torna tre volte il tema. Ma in questo che cosa c'è? C'è la necessità di trovare il varco. Questo è il discorso. Di trovare una via d'uscita. In un altro momento ci dirà come il pesciolino che deve trovare il buco nella rete. C'è l'uscita. Dalla pigiorina. E lanciarsi nel mare aperto. Trovare il buco nella rete. Dice, tu non ricordi, tu non ricordi, tu non ricordi. E poi alla fine anche lui rimane spiazzato. La poesia dice, non so chi va e chi resta. Questa difficoltà di riconoscere. Che è affidata poi alla memoria. Perché poi noi siamo, lo dirà poi Gorgias, noi siamo la nostra memoria. Senza non saremo nulla. E quindi è quasi come dire un'invocazione, è una presa di posizione. Dice, tu non ricordi, tu non ricordi. Tu non ricordi. Tre volte trovi una memoria. Chi la legge? Io. Chi ci legge? La casa dei doganieri. Tu non ricordi la casa dei doganieri, sul rialzo a star piombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera, in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri. E vi sostò il requieto. Li peggio, sperza da anni le vecchie mura, e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura, e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addimana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa, e in cima al tetto la banderuola affumicata Gira, senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri, né l'oscurità. Ah, l'orizzonte in fuga, dove si accende rara la luce della petroliera. Il barco. E qui ripullo la rifrangente, ancora sulla balza che scusceve. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. E qui si imposta, come dire, la difficoltà di capire, di riconoscere il nostro versino. Ma qui per la prima volta, in maniera più dichiarata, viene fuori il tema della poesia, l'importanza della poesia. Questa poesia, che fa parte degli ossi, si chiarisce in maniera abbastanza precisa l'importanza del verso della poesia. È quasi una ripresa importante. La poesia, non si dice questo, fa parte del ciclo mediterraneo. Forse degli ossi è il ciclo più vero del montaggio. Il primo verso dice, noi non sappiamo quale sortiremo. Questo è il problema. E poi si pone il problema del nostro vestito. Che cosa dice? Noi non sappiamo quale sortiremo domani. Oscur o lieta. Forse sarà un discendere fino al vallo estremo, nel buio, perso il ricordo del mattino. È il dilemma, no? E non sappiamo che è persino banale. Noi non sappiamo il nostro destino. Noi non sappiamo persi in questo momento, diciamo, di totale incertezza. Che c'è a partire. Non sappiamo quando finiremo, come diremo. In un certo modo dice questo. Dice, forse stranieri e genti ancora ci accoglieranno. Smaltiremo la memoria del sole. Il sole è la luce, quindi diamo la felicità. La mente ci cadrà nel tintinnare delle rime. Questo è importante. Le rime. Torna il discorso della pensata. Ci cadrà nel tintinnare delle rime. Noi siamo persi. E tuttavia, Montale parla al mare. Noi siamo persi. Noi siamo persi. Noi siamo persi. E a mare dice, ci pur di una cosa ci affidi il padre. Cioè il padre e il mare. E questa è che un poco del tuo dono sia passato per sempre nelle sindabe che richiamo con noi. Api con lo santi. E poi c'è una quartina che secondo me è la più bella quartina, forse di montare una sola. A me è quello che io preferisco. Quando dice, lontani andremo e sarebbero un eco della tua voce. Come si ricorda del sole. L'erba grigia nelle corti scurite tra le case. Il soggetto è l'erba grigia. Come l'erba grigia che non riesce a verdeggiare. Perché? Perché è il ricordino buio nelle case. Si ricorda del sole. E lo si può ricordare solo con un atto poi. Lontani servirà un eco della tua voce. Come si ricorda del sole. Le corti scurite dalle case. E poi è la ripresa della posizione. Un giorno queste parole. Le sillabe sono diventate parole. Queste parole che tempo educano dall'esperienza al mare. Nutrite di sconforto e di silenzio. parlano ad un fratello non cuore sapide di sale greco. Perché? Perché sapide di sale greco? Perché la Grecia è la puglia della poesia. La poesia nasce lì. Aveva detto in un pensiero straordinario. C'era il mio padre. Nella sua dottrina linguistica. L'italiano. La lingua italiana. Deriva dal greco. Che è la lingua delle parole. Il francese deriva dal latino. Che è la lingua dei termini precedenti. Le parole. Sapide di sale greco. Per chi le sa prendere. Saranno sapide. Dez di sale greco. E' il sale della poesia. Comincia. Diciamo questa ripresa. Ma anche forse questa lettoria. Lui in un'intervista. Riferendosi anche a questo. Un po' di progetto di Lombardiani. C'è un po' della poesia. Non serve a niente. Non fa niente. Anche perché poi. Va sul foglio di carta. E' una pena. Però poi. Sai da farci dire. Ecco. Andiamo a leggere questa. Noi non sappiamo. quale sortiremo domani. O scuro o lieto. Forse il nostro cammino a non tocche radurre ci addurrà. Dove morbo rieterna l'acqua di giovinezza. O sarà forse un discendere fino al vallo estremo. Nel buio. Perso il ricordo del mattino. Ancora terre straniere forse ci accoglieranno. Sbariremo la memoria del sole. Dalla mente ci cadrà il tintinnare delle linee. La favola onde si esprime la nostra vita. Repente si cangerà nella cupa storia che non si racconta. Pur di una cosa ci affidi padre. E questa è che un poco del tuo dono sia passato per sempre nelle sillabe che richiamo con noi. Api nonzanti. Lontani andremo. E serviremo un eco della tua voce. Come si ricorda del sole l'erba grigia delle corti scurite tra le case. E un giorno queste parole senza rumore. che teco educando, nutrite di stanchezze e di silenzi, parranno a un fraterno cuore sapile di sale greco. Grazie. 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 Il tema contaviano, complessivo, lo possiamo ritrovare in questo testo che leggiamo, è l'ultimo di questa serie, è il testo molto famoso, ha avuto grandi lettori, i più grandi attori hanno letto questo libro. La poesia si intitola Priviere. Ed è la poesia che il Montale mi mise proprio a chiusura di Osso e di Silvia. È l'ultima poesia di Osso e di Silvia. Ed è l'unico testo nel quale torna il termine Osso e di Silvia. Perché la raccolta, si intira appunto come sapete, Osso e di Silvia, ma non c'è riferimento. Tranne che in quest'ultimo testo. E' in quest'ultimo testo che l'osso di Silvia è sballottato. Ma Riviere ci ha avuto anche, ancora una volta, un parallelismo anche con la Rossella Quadriana. Qui Montale ci racconta dell'incanto della natura che muoiono e poi rinascono sulla terra. E attraverso questa osservazione racconta la sua vita di fanciullo, un po' illuso, poi smarrito, poi deluso. E nello stesso tempo, diciamo, ha questa, non un presagio, ma un desiderio di diventare riviere. Perché? Perché le riviere, diciamo, come i fiori, come la natura, muoiono però poi rinascono. Non finisce. Mentre invece la vita dell'uomo, quando è arrivato il momento, è finito, non c'è più. E questo fa pensare anche poi. E' l'ultima poesia di Riviere, di Osiris, che fa pensare al tramonto della luna, di Leopardi, no? Gli ultimi sei versi dicono questo, di Leopardi, no? Anche Leopardi, c'è la luna, la notte, finisce, la luna, tramonto. Però poi, se voi con le nette piagge, ritroverete, eccetera, 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 e ci sarà la nuova vita, il nuovo giorno, la nuova vita. A differenza invece di quando avviene per l'esistenza umana. Infatti, nei sei versi finali, secondo la testimonianza di Ranieri, Leopardi, dettò di Leopardi, vedola e insinua al fine. E' dalla notte che l'altra età di oscura segno cos'è l'idea e la sepoltura. Cioè, quando finisce il giorno, finisce la giovinezza, non c'è altro da fare, no? Poi vi avviene la giovinezza, e qua anche Leopardi è durissimo nel linguaggio, perché in altri termini, qui dice la giovinezza spanica, in altri termini è verità, hai giovanezza, giovanezza, quale sta il giorno e gli deve essere così, giovanezza, giovanezza, e poi ci aspetteremo dall'Leopardi, con il planeta dolce, non la giovinezza spanica, mai svanì, come nella serie di difesa, no? Se la luce svanì da poco a poco, invece doveva avere freddo, secco, asciutto, la bella giovinezza spari e finita. E alla notte, la notte è durissima, è l'età della vecchia, l'età lunga, che è l'altra età, che è oscura, l'appuntamento è con la donna, segno cos'è l'idea, la sepoltura. è durissima, è un montale, che è altrettanto amaro, come si sapeva, però ha un finale, non disperante, ma ha un finale, come dire, quasi di auspicio, no? Come sarebbe bene se noi potessimo, in qualche modo, come i fiori, come i fiori, no? Scangiato i fiori, dice a un certo punto, in inno le leggibili, no? non sparire più, no? Sentiremo i burdomani, simi a questi fiori, Oggi, ieri scarniti e nudi, oggi pieni di flemiti e di rinfe, sentiremo i burdomani, un riaffluir di sogni, un urger folle di voci verso un esito, e nel sole che rinfe, rifiore. E' ugualmente una sentenza amara, però nello stesso tempo possiamo dire, diciamo, è, paradossalmente, scritta dopo, diciamo, dopo, è meno serio, facciamo così, di quello che è lo spirito, Leopardi, anche perché, diciamo, la leggiamo con una maggiore dolcezza, questi libri. Leopardi, invece, non ti lascia, non faccia spiegare. Allora, vogliamo leggere questa libri? La leggiamo adesso, via mi dicevo, perché è una cosa complessa. Riviere. Bastano molti stocchi d'erba spada, pendoli da un giglione sul delirio del mare, con due capelli e palli dei miei giardini deserti, e un equalipto biondo che si tuffi da sfrusci e pazzi voi nella luce. Ed ecco che, in un attimo, invisibili figli a me si asserpano, farfalla in un'aragna di fremiti d'olivi, di sguardi di girasole. Dolce cattività. Oggi riviere di chi si arrende per poco, come a rivivere un antico gioco, non mai dimenticato. Rammetto, l'acre filtro che porgesti allo smarrito adolescente, o rive, nelle chiare mattine, si fondevano dorsi di colli e cielo, sull'arena dei vidi. Era un risucchio ampio, un equal frame di vite, una febbre del mondo, ed ogni cosa in se stessa pareva consumarsi. Oh, allora sballottati come l'osso di seppia dalle ondate, svanivi a poco a poco, diventare un albero lungoso, o d'una pietra levigata dal mare, nei colori fondersi dei tramuti, svarir carne, per spicciare sorgente ebra di sole, dal sole divorata. Erano questi, riviere, i voti del fanciullo antico, che accanto ad una rosa panostrata, lentamente moriva sorridendo. Quanto, Maria, queste fredde luci parlano a chi straziato di fuggire. Lame d'acqua scoprentisi tra barchi di labile ramure, rocce brune tra spumeggi, frecciare di rondoni vagabondi. Ah, potevo credere di un giorno, o terre, bellezze funerali, aure cornici all'agonia di ogni essere. Oggi torno a voi più forte, poi inganno, benché il cuore par sciogliersi i ricordi vieti e agroci. Triste, anima passata, e tu, volontà nuova che richiami, tempo al forse di un uvino porto sereno di salvezza. Ed un giorno sarà ancora l'invito di voci d'oro, di lusinti e audaci. Anima mia, non più di cosa. Pensa. Cangiare in himno le regia, rifarsi, non manca più. Potere, simili a questi rami, ieri scarniti e nudi, ed oggi piedi di fredde e di linfe. Pensa. Sentire. Sentire. Nei noi pur domani, tra i profumi e i venti, un riaffluir di sogni, un urger folle di voci verso un esito. E nel sole, che bimbeste rivier rifiorire. Applausi. Allora, io volevo decidere questa altra volta. Infatti, ho dato alcuni libri, ma non erano sufficienti per tutti. Li ho trovati altri, chi non avesse avuto una forza disposizione. È un libro che si è esaurito subito. Comunque sono a vostra disposizione. Se volete, poi potete prenderlo. Se non so prenderlo, non so. Saranno forse un numero insufficino, ma è quello che ho trovato. Il resto è tutto esaurito. Allora, adesso volevo dire di questo, diciamo. Prima di chiudere. Noi abbiamo avuto, però, anche qui, dopo detto all'inizio, l'assistenza di un altro poeta, un altro poeta, un altro scrittore, che, diciamo, tiene la mano. No, tiene la mano e ci aiuta. E che è anche uno studioso, oltre a essere poeta improprio, è anche uno studioso mio barriano. L'amico Fabio Gianotti, che è venuto da fuori, tra l'altro. e vi ringrazio. E volevo anche una tua testimonianza, magari qui e poi dopo. Buonasera a tutti. Io, in effetti, avevo preparato qualche cosa. Però preferirei riallacciarmi. Io, innanzitutto, voglio mantenermi nei limiti, nei temporali, dissati dalla vita. Volevo, così, continuare un po' il discorso così interessante che ho sentito. Ad esempio, si è parlato di essenzialità. Giustamente, Antonio diceva che la poesia deve essere essenziale. Insomma, bisogna, ed è così, ha ragione. Perché si dice che bisogna sottratto, insomma. Un decima del fatto, potrò no. Siamo in buona compagnia. No, volevo citare anche un verso di Montaglio che lo dice. L'ultima dice, no, vorrei essere stato ed essenziale. Eccetera. Come il ciocco. Come il ciocco. Eh, come il ciocco. E poi, senti tanto che parlava della storia, a proposito della scuola. Ed è vero anche questo. Perché, se noi pensiamo, quando abbiamo studiato... Adesso le cose sono un po' cambiate. Ma, quando, qualche annetto va, insomma, eravamo giovincelli liceali, i libri di destra erano... Il titolo era questo. Storia della letteratura matina. Storia della filosofia. E quindi, si muoveva, diciamo, il storicismo. E qui, Montaglio, gli strani di Montaglio si appuntano anche sullo storicismo, sulla cultura storicista, idealistica, marxista, di destra e di sinistra. Lui, in un testo, dice, chiedi, chiedi, rosso, nero, no? Nome di chiesa o di officina, riferendosi da più là, a questo aspetto. E poi, sul mare, volevo... Ecco, il mare, l'importanza... Antonio ha sempre parlato di quella bellissima suite mediterranea, per cui sono tratti tanti... tanti testi, non importa come ha il titolo, sono orientato, dalle corrucce, eccetera. Giustamente, diceva... Forse è la sezione più bella, forse è la sezione più bella. tra, diciamo, l'apporto io-natura, cioè l'annunzio che lo risolve in un panismo gratificante, invece, nella poesia a cui accennava Antonio, poi letto magistralmente dalla... tra gli attori e gli attrici anni presenti, appunto, diceva... Padre, no? L'apporto di tipo quasi, insomma... Volevo leggere questo qui, insomma, cioè il mare... Secondo qualche critico, ecco, appunto, Montale considera... Non c'è un'identificazione tipo panesco. Montale considera il mare come altro, come padre alla cui legge bisogna scegliere. sottostale. E... C'è un critico che fa questa... questa... Contrapposizione. Il mare è l'essere... eh... L'io... L'io poetico... Comunque, anche dal punto di vista... L'io è inesistente, quindi l'essere per la morte. Quindi, soggetto alla temporalità, alla schiavitù della temporalità. E praticamente, quando... Mi stesse di citare sempre... No, ho voluto ribaltare cose per leggere, poi mi sembrava un po'... Dato che è stato così interessante, sia la lettura sia la titolazione diversa, sia la titolazione diversa, che veramente... Dato mi penserebbe avere il figlio. In pratica, appunto, questa... schiavitù della temporalità, noi siamo soggetti al tempo, e giustamente si parlava di varco. E quindi la difficoltà di... si è dedicata a un tu, un tu italiano. Di solito, dietro al tu, anche questo è stato detto, si nasconde una figura femminile, quindi sono tante le figure femminile. come Arletta, Dora Marco, Dora Marco, eccetera... E... Montale, a un certo punto, lascia come una specie di... un testamento, un piccolo testamento... in una delle conclusioni provvisali, il piccolo testamento, parla proprio di... questo, insomma, di questa... non possibilità di salvezza, che è molto, diciamo... molto in forza, diciamo. E poi volevo sempre riferendomi a... così, in modo che ci sia una continuazione del discorso, insomma. Ecco, si veniva letto, anche questo molto bene dall'attrice, per il... il Meriggiare. Meriggiare è uno dei pochi testi giovanili che è sopravvissuto alla... diciamo... alla striglia del poeta, cioè alla... 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 alla screnatura voluta dal poeta. E... che... naturalmente il... ma soprattutto, volevo... anche io, perché il carattere di Montale, è venuto bene fuori questo... questo carattere del poeta, dall'aneddoto... chiuso e anche un po' particolare, io vorrei raccontare un aneddoto, che credo che sia di prima mano, nel senso che... conoscere la... Maria Lucio Spaziane... uno delle... delle ispiratrici... la volpe... tra l'altro... lei aveva fatto stampare anche una cartolina, dove c'era... c'era... rappresentata questa... una volpe... perché... e faceva anche il premio Montale... certo, sì... e sì... che sono andato tante volte al centro Montale, che erano vicino a Piazzate... e poi purtroppo è finito per una bega, un credo, per un litigio... comunque... che volevo dire... quindi... no, ecco... io... un aneddoto... quindi... che ce la dice lungo e conferma, quanto è emersa da quell'altro aneddoto... e... parlando con un poeta... un poeta... un poeta viralense... che... scomparso da poco... lui mi diceva... io sono stato... sono stato... a trovare Montale... in via Bio... per fare per me un'intasca... credo che... da lì forse... è molto centrale... una strada molto... forse... se non ricordo male... forse si vede proprio il luogo... dall'appunto... non è questo il fatto... e... Montale... mi ha ricevuto... diceva Jean-Pierre... mi ha fatto accomodare... e... io parlo là... e dice... Montale... mi interrompo... e dice... che lavoro... che lavoro fare? e dice... io sono... io sono... io sono... bancario... lavoro in una banca... ah... dice... Montale... ma... eh... ha subito mai... qualche... rabino... in banca... c'è stato qualche... e dice... ma... per fortuna no... e Montale... che peccato... lui era rimasto molto male... di questa... di questa risposta... e me l'aveva... raccontato... immagino che me l'aveva raccontato... ad altri... ma non lo so... per me... è stata una... primizia... e allora... quando andai... poi... un paio di volte... andai... al centro... Montale... a... a Roma... e... e... parlavo con la... parlai con la... Spaziani... con Maria Luisa Spaziani... questo fatto qui... siccome lei era stata... un... inspiratrice... come dice... eh... di... 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 le riferi... questo... 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 aneliotto... per sentire anche un suo commento... ma lei... infese... il... il poeta... disse no... ma forse non è... non ha capito... Il suo interlocutore Gianviero non aveva capito che Eugenio Montale era molto ironico, quindi non era, probabilmente era detto in questo senso. Grazie, grazie. Volevo ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato con noi qui, Bruno, 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 volevi fare un'altra cosa? Volevo ringraziare anche i colleghi che hanno dato sostegno alle altre iniziative. Fioriamo la Franchini, Is Gospel, Bruno, 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 Bruno che ci sta feliciando con questo filmato e faremo un film su questi incontri. Faremo poi anche un libro, tra l'altro. ma soprattutto la nostra intenzione abbiamo già parlato con i colleghi della federazione a Roma il Presidente non è potuto venire ieri ha finito un festival a Natura non ce l'ha fatto faremo un nuovo ciclo e quindi per chi ha avuto da studiare e soprattutto con lo spirito di leggermi in chiave attuale non soltanto come da museo ma soprattutto questi personaggi ci parlano ancora perché come si dice forse in maniera banale ma è vero che i classici sono quei testi classi che non finiscono mai di dirci ciò che hanno da dire e vanno ridenti grazie a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti